Auguri a Zianna, tanti auguri a te! Già! 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 Spegnete la candeliria, spegnete Zianna! Siamo tornati a cucinare la prima, da tornici in giù, mi vedeva una cittina a canne, da un interno in cui dava se faceva il bambino, il mio marito mi riteneva più sui amici, non si parla, da tornici in giù, sono un paio, una cittina a canne per difendere la madre, a presto sono andato, il corteggiatolo. lì dà, lì dà, lì dà, lì dà, ma tu che lo vedi? Beh, ci vedi nella cos'è un buono. Mi mancherò perché è bambino a cucinare, ma sempre ci mi annagia, rea stando che mi tiro, fate parlare a ziana quando è più buono non mi dimenticate il mio terziano il mio scapolare l'ho fatto perché Maria ti dico sono momenti un po' no, no, hai fatto buono perché voi? no, perché mi ti dico il tuo cuciere mi dice penso che sono desideri ma io sono vittorio si la figliola bella non mi vuole amassero il cuciere senza prendere e sciupare è strano i fiori latri li tenero due latri fuori a terrazza nostra facevano i fiori bianchi proprio una bacchetta di fiori bianchi facevano i papà non li toccate queste li dovete portare a Santa Lucia quando ieri Maria dev'easse se avete tutta quando ieri dobbiamo quindi bene arriva mi home non mi avete posto che si dici usandoti gamba io Bangkok c'ho me santo i ciori me mi sito io trying to tutti the Whilst Sando care y i луч could Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.